Buongiorno amici, il Partito Democratico, tornato al potere con la manovra di palazzo che ben conosciamo, ha rispolverato subito un suo vecchio cavallo di battaglia, lo Ius Soli, in questo è anche supportato da una parte del Movimento 5 Stelle, quella che fa riferimento a Roberto Fico. Innanzitutto di cosa si tratta? Molto in breve, chi nasce sul suolo italiano è italiano a prescindere dalla nazionalità dei suoi genitori. Tradotto, i figli degli immigrati sarebbero automaticamente italiani qualora fossero nati nel nostro paese. Alla sinistra piace anche la Ius Culture, che è leggermente diverso, può diventare cittadino italiano il minore straniero nato o arrivato in Italia prima dei 12 anni, che abbia seguito un percorso formativo nelle nostre scuole di 5 anni. Poi ci sono vari casi particolari che ometto per ragioni di brevità. Il tema quindi mi sembra questo, tutto sommato, cioè il possesso automatico della cittadinanza italiana. È sufficiente per essere integrati? L'esperienza insinua che la risposta a questa domanda sia no. Lo Ius Soli è infatti perfetto se si ha un continente da colonizzare e da popolare e non a caso fu lo strumento con il quale gli stati nascenti, gli Stati Uniti d'America, invitarono le persone a venire a lavorare e a popolare appunto il continente dell'America del Nord. Appunto era il caso degli Stati Uniti, ma di recente anche negli Stati Uniti c'è qualche dubbio sul fatto che lo Ius Soli sia ancora una misura attuale. Lo stesso Trump più volte ne ha parlato, accennato con un certo riscontro nei sondaggi. Ma veniamo invece all'Europa. L'Europa è un caso completamente diverso dagli Stati Uniti per motivi storici. Qui invece di recente abbiamo sperimentato che il possesso della cittadinanza non è una garanzia di integrazione. Guardiamo ad esempio in Francia e vediamo che gli immigrati di seconda generazione, cittadini francesi, odiano a tal punto la Francia, il loro paese, da seminare il terrore in nome dell'Islam più radicale. Ma se guardiamo anche ad altri paesi come l'Inghilterra ad esempio o il Belgio, noi vediamo che qua si sono create delle città nelle città, ovvero ci sono dei quartieri, dei soborghi completamente inaccessibili alla polizia cittadina della città in cui il figlio di un immigrato, cittadino inglese o cittadino belga, può nascere e morire senza neanche parlare una parola della lingua del paese di cui è cittadino. E quindi qualcosa insomma anche in questo caso non torna. Ma l'integrazione è un'altra cosa. Nessuno ha la bacchetta magica ovviamente su questo tema che è enorme. Forse però sarebbero preferibili delle verifiche. In America, in parte, negli Stati Uniti in parte ci sono verifiche che sono, diciamo, la cittadinanza non ti viene concessa automaticamente, ti viene concessa al termine di una specie di iter nel quale viene saggiata la conoscenza della lingua, la conoscenza delle leggi, la conoscenza della storia del paese che accoglie. Il motivo principale che sconsiglia lo Iuso Soli è questo, cioè se approvato diventerebbe un invito alla partenza per migliaia di immigrati che avrebbero dunque questo nuovo miraggio. Questo potrebbe dare vita a un nuovo flusso incontrollato che certamente non è quello di cui ha bisogno l'Italia, perché poi da questi flussi incontrollati discendono solo fatti negativi sia per gli immigrati sia per noi, morti in mare, gente ridotta alla schiavitù, tensioni sociali e così via. Non abbiamo certo bisogno di questo tipo di immigrazione, semmai abbiamo bisogno di un'immigrazione che sia collegata al mercato del lavoro e non al mercato dello schiavismo. Comunque rubo qualche dato a Daniele Carpezzone che ha scritto un bel articolo sulla verità. Riguarda la concessione delle cittadinanze. L'Italia è di gran lunga il paese che attualmente, con le regole vigenti, concede il maggior numero di cittadinanze, ma di gran lunga rispetto anche agli altri stati. Allora, 224 mila cittadinanze concesse nel 2017, 202 mila nel 2016, 178 mila nel 2015, 130 mila nel 2014, 101 mila nel 2013, 65 mila nel 2012. I dati sono della fondazione ISMO basati su numeri ISTAT, quindi ufficialmente siamo il paese che concede il maggior numero di cittadinanze. E quindi perché? Dov'è tutta questa urgenza di approvare lo IUS soli? Perché il PD insiste su questa misura che tra l'altro è impopolare come poche altre? Perché è guidato da statisti che non hanno paura di fare cose scomode anche a costo del consenso elettorale? Mi permetto di dubitare. Lo IUS soli piuttosto è una battaglia di bandiera per una sinistra che ha abbandonato completamente i temi che l'hanno sempre caratterizzata, come appunto l'attenzione al mondo del lavoro, per ricompattarsi intorno ad altri temi che possiamo definire di socialismo umanitario e che sono poi però la rovina per tutti perché gli immigrati partono per un Eldorado che non esiste, finiscono schiavi normalmente e gli italiani si trovano a competere con una mano d'opera che costa così poco, quella dell'immigrazione clandestina, che alla fine anche i loro salari vengono compressi, quindi danni per tutti, in nome di una battaglia totalmente di bandiera e ideologica a mio avviso. Poi c'è una versione anche più complottista secondo la quale il PD avendo perso il consenso vuole cambiare la base elettorale semplicemente e quindi scaricato dai lavoratori italiani cerca consenso tra i nuovi italiani, quelli appunto che lo diventano attraverso lo ius soli. Io non credo che i vertici del PD siano così cinici e così stupidi, credo invece che faranno alla fine una leggina come quella che è stata in discussione nel 2017 ad esempio, era una leggina che non cambiava niente se non, era la classica legge che cambia tutto per non cambiare niente e farsi però, utile però per farsi un po' di propaganda nei quartieri per bene che votano alla sinistra. Nei quartieri invece per male che non la votano arrivano i nuovi immigrati invitati dal miraggio dello ius soli. Veramente vogliamo infliggerci anche questo?